E pure c'erano tanti, non l'ho vista, ma scusate, c'erano tanti, c'erano tanti, c'erano tanti, c'erano tanti, cazzo un poeta così, che in due linee ha racchiuso la poesia di sentimento del mondo, ma è fantastico, ognuno sta solo sul cuore del mondo, ed è traffitto da un raggio di sole, ed è subito amicigliere, ma è una meraviglia, ma siete passati nelle basi e non lo dici, eh! E' proprio me vostra organizzenziale per maggiore di dare diciamo a tutti i far penna, mi far penna, mi far penna, mi far penna, mi far penna è nato tutto qua, è nato a realtà, è nato a comradecchista, è nato forte cara, la discesat fingerprints, e ce sta suc, non lo gozi, innato! E adesso, molti, molti, è visto dal processo davanti a Dabon Cassini a dire per lui quella lì non ha mai preoccupato. Ma neanche, neanche la forza dell'uomo, non è sì, è una vera figlia, ci ho dato! E anche questo colaggio! No, no, non ho pagato mai nessuno! Sono friati, amici, 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 amici. Guardate, sì, sì. E allora, poi, vedete i comizi che fanno questo. Allora, dovevo venire, ero tenuti in sito, non erano le incarcerate a Dabon Cassini. Parliamo di sì. Ma come si fa? Bravo! Grazie! Grazie! Ho messo un comizio di ricicchè e era in quell'altro campasso verso l'alto, è parlato, è parlato, è parlato, è parlato, è parlato, è parlato, è parlato. Io ho conosciuto un bravo sindaco quando era genaco, combattiva con la proprietà dell'alto, con la magia e ha riscatto anche la sua vita. Ma la concezione della politica è verga, è morta, è crocina, è stato, è reato per fare il sindaco di Getta. Una volta che sta per l'alto sindaco, muovono la città e va a fare il depo parlamentare, va a fare l'alto, il diventato per farlo parlare, l'ordine è questo e gli tocca l'alto della regione. Non funziona più così! Dovevi essere reato per fare quello che ti ha detto gli elezioni. E lo vedete a fare le scuole sul bicicletta di Getta, così con le mangiunte, la madonna dietro che dice lo sono il vostro rosario, di parlare, parlare. Quello che è loro, sono morti ma lo sanno, vogliamo fare un, non ricordo, loro fanno i sondaggi su gruppi di persone di mille persone. E questo non è un comizio, l'avete capito che non è un comizio, questo è un ragù, è qualcosa di diverso. E' qualcosa di diverso, lo percepite da pelle, sulla pelle già cambiamo qualcosa. E allora, facciamo un sovraccio qua, sarei 5 mila e scrivi di qualche città e scrivi, siamo in diretta, perché abbiamo anche i nostri conazionali che hanno lasciato i vostri conazionali siciliani, che hanno lasciato la Sicilia e ci stanno guardando, nel mondo ci stanno parlando qua, e siamo una fratea, che ci stanno vedendo, guardando. Guardate, quanti siamo? Siamo 5 mila e scrivono, poi siamo su Youtube, 980 mila persone su Youtube, ma ragazzi, queste cose, loro non sanno neanche cosa sia, perché quando si avvicinano alla lente, l'armire, non puoi mentire, non è la televisione, il giornale, non è che vai in televisione e dice una cazzata e nessuno ti sventisce, e poi non c'è Demonia, la regna va di Modica. Infatti, un certo drag di Modica, che cosa fa? Viene denunciato, internet è come giudice per tre anni, che cosa fa? Eh, va, per adesso si è candidato, ma avete visto i manifesti, gli avete visto gli sblogani che usano sui manifesti, delle facce migliorative, con degli sblogani, io sempre con voi, sempre con voi. C'è da tocarsi, ma non 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 c'è da tocarsi. Ah, poi, io perché, io sono siciliano, a portata di mano, una dice, a portata di mano, viene portata di mano. E questo bè cosa fa? Scopre una rete, e questo dragolo qua, e cosa fa? E' una cosa meravigliosa, che noi aspettiamo con ansia. Apre una pagina, su YouTube, e allora metto il suo curriculum, dice, io mi ricordo, io vorrei fare questo, vorrei fare questo, e lascia aperta la pagina per commenti. In 12 secondi, sono stati fatti 1500 commenti, il più normale. Ma perché qui mi ha detto, se stanno guardando, non lo voglio, ha chiuso subito il momento. Perché pensano che non ci sia le cose, in rete, o ha una reputazione, o non so fra me, succede con me, o non so fra direte, nel 2005 ho coperto il blog, dopo due secondi, si sapeva tutto della mia vita, ma non ho niente da rascondere. Cosa dovrebbero rinunciare, qualche cosa, o 64 A, qualche cosa, ma niente, incredibile, no? Ma è strumenti a direte, e allora, noi spaventiamo, sapete quello? Perché noi, in tre anni, adesso sono tutti in televisione, a dire, fare questa, questa, questa è la mia vita.